Monta la protesta in Italia e se da un lato il movimento dei forconi blocca strade costringe gli esercenti a chiudere, non va meglio nelle scuole del bel paese. Studenti da diversi giorni in autogestione, quale forma di protesta bianca contro un sistema di istruzione ormai allo sbando, contro una scuola pubblica non più in grado di offrire una formazione idonea, né tantomeno speranze e prospettive future. Siamo a Brindisi, dove diversi gli istituti del capologo messapico e della provincia chiedendo all'appello dell'UDS Brindisi di trasportare le istanze sociali e le mobilitazioni già cresciute nel corso di quest'anno scolastico all'interno dei singoli istituti hanno avviato e avvieranno percorsi di mobilitazione in vista della tappa comune quella della manifestazione cittadina studentesca indetta per venerdì 13 dicembre. Giovani dunque chiamati a promuovere simultaneamente in questo arco di tempo autogestioni e cogestioni fitte di laboratori e assemblee per rilanciare il ruolo dei saperi della cultura e della partecipazione di un vero modello di scuola. Questa autogestione è stata organizzata a livello regionale da tutte le scuole e soprattutto della provincia di Brindisi in quanto noi avevamo organizzato già altre due manifestazioni nei mesi di ottobre e di novembre non abbiamo ricevuto risposta da nessuno, dalla provincia, dal sindaco questa autogestione è stata organizzata per informare gli studenti anche della nostra scuola di quello che sta succedendo con questi enti e lo svolgimento di questa autogestione andrà a sfociare poi nella manifestazione del 13 nella quale noi rivendicheremo i nostri diritti davanti al sindaco e chiederemo di far cambiare qualcosa per quanto riguarda i problemi relativi all'edilizia scolastica i trasporti, il comodato d'uso dei libri che comunque diventano sempre più cari e altri problemi che abbiamo riscontrato a livello di studenti. Possiamo vedere a Torino, a Roma, a Milano le varie manifestazioni che stanno facendo gli studenti dove sono tutti compatti comunque l'Italia si sta muovendo adesso.